Ordinato, ansioso, curioso, amante del buon vino e delle piante, si definisce così Marco Mordente, prestigiatore, talentuoso, trascinatore, grintoso, leader, lo definiscono così invece i tifosi bianconeri. Guardia classe 79, nativo di Teramo, ingaggiato in estate da coach Sacripanti per giocare al fianco del suo vecchio amico Andrea Michelori. Ci ha messo poco Mordi, ma veramente poco, per entrare nel cuore degli appassionati di basket, di terra di lavoro. Salito sul legno del Palamaggio in punta di piedi, consapevole di essere il giocatore di maggiore esperienza del gruppo, Marco ha conquistato la sua nuova gente canestro dopo canestro, applauso dopo applauso. In coppia con Gentile ha guidato diverse vittorie bianconere. Lui, che doveva essere un giocatore da panchina, un cecchino da inserire per l'occasione, si è rivelato punto fermo della formazione di Pezza delle Noci. Nell'ultima trasferta dell'anno a Sassari è stato impiegato per 35 minuti sui 40 totali, altro che pedina di ripiego. Giocatore da altri tempi, per signorilità e classe, Mordente è uno dei protagonisti assoluti della stagione italiana di palla a canestro, al centro dei successi raggiunti meritatamente con la casacca della Juve Caserta. Le sue doti umane hanno rapito per primo proprio coach Sacripanti, che ne ha modificato in parte le caratteristiche per adattarlo ad un nuovo contesto. Anima da guerriero, dentro e fuori dal campo, Mordente è ormai un casertano acquisito, poco importa se in passato ha indossato qualche maglia poco gradita nel nostre zone. Conta ciò che il giocatore ha fatto una volta giunto in una città come la nostra che da sempre va avanti a pane e basket tra mille difficoltà. Una città che si è innamorata di Marco Mordente e che spera in futuro di proseguire questa emozionante storia d'amore.